Case Paulin, un'azienda bio che ha sede in Veneto. Sì, assolutamente. Case Paulin è un'azienda certificata biologica da più di dieci anni, ma biologico non significa solo salute e benessere nel vino, ma significa anche un aiuto alla sostenibilità. Quali sono i vostri vini? I nostri vini sono bianchi, quindi prosecchi frizzanti, o il bianco fermo, l'incrocio manzoni. Altrettante etichette, quindi altre quattro, ne abbiamo nei vini rossi, quindi dal Merlot Carmener, tipico del Miglio Rosso, che è il nostro vino più popolare e riconosciuto, fino a San Carlo, che è un taglio bordolese, molto popolare, in edizione limitata, che non esce neanche tra l'altro tutti gli anni. Abbiamo poi un Cabernet Sauvignon, un vino molto beverino, molto semplice, e ci trovate proprio a presentare in anteprima, qui al Vinitaly, un Recantina. Recantina è un vitigno molto interessante, perché è tipico proprio della zona del Montello e di Asono. Ne esistono pochissimi ettari, sono stati recuperati da diverse cantine della zona. Ci aggiungiamo noi, per questo Vinitaly, lo presentiamo in un'edizione piuttosto limitata, di 3.000-3.500 bottiglie, che andranno solo al canale Oreca, quindi in un posizionamento piuttosto alto.